Spazi culturali, architettonici, gastronomici, musicali ed artistici animeranno sabato prossimo 9 agosto il Centro Storico di Agrigento. L'evento titolato Notte Bianca Cattedrale d'Intorni, promosso da numerose associazioni di volontariato in collaborazione con la Cattedrale di Agrigento, è stato illustrato stamane da Don Giuseppe Pontillo. Un momento per rivivere nuovamente attorno alla figura del Santo Patrono della città che è San Gerlanto, la festa. Inizieremo alle 20 con la celebrazione della Messa, poi lo spostamento a Santa Maria dei Greci che è stata pure Cattedrale di San Gerlanto e poi la nottata che inizia, la serata che inizia dalle ore 21 con i diversi spazi, gli spazi culturali, lo spazio architettonico con la valorizzazione del Museo Minissi, lo spazio artistico con l'installazione sulla Cattedrale, gli spazi gastronomici perché è giusto vivere anche in festa una serata, lo spazio musicale in via raccomandata e una particolarità che sarà anche della serata, oltre allo spazio musicale, lo spazio del silenzio. La chiesetta di Sant'Antonio che è sconosciuta alla città di Agrigento e che si trova di fronte all'ingresso dello schifano, dell'ex schifano, sarà aperta dalle 21 alle 23 e 45 per chi, mentre visita il centro storico, oltre al rumore, oltre alla festa, vuole vivere un momento di silenzio e di serenità, forse anche per riposare non solo il corpo ma anche lo spirito. Un momento dedicato alla musica e quindi uno spazio musicale all'interno della Notte Bianca su vostra iniziativa. Sì, l'iniziativa è partita l'anno scorso come sperimentazione, come prima edizione. Quest'anno, visto il successo l'anno scorso, l'abbiamo ripetuta in maniera molto più articolata e io mi occuperò, come l'anno scorso, del spazio musicale. Nella scalinata di Via Raccomandata, proprio di fronte alla cattedrale, si animeranno diverse band e musicisti agrigentini che daranno il loro contributo a livello volontaristico. Inizieremo verso le 21 e 30 dopo la Santa Messa e poi fino alle 2 e alle 3 daremo spazio alle nostre note. Un evento che richiama tutta quanta la collettività, quello della Notte Bianca. Sì, è un evento importante perché appunto è un evento legato alla comunità e alle dinamiche del centro storico. Il centro storico lo si vive, lo si scrive, noi facciamo parte di coloro che lo vivono. Il rapporto che è nato tra la cura agrigentina, l'ufficio cultura e le associazioni, soprattutto quelle che hanno lavorato in Via Vallicaldi, è un rapporto intenso e direi anche straordinario. Nell'ambito della serata sarà inaugurata un'installazione in colorate scarpe in gesso. L'opera sarà questa, Walk in Progress è il titolo, moltiplicate questa scarpa per 400 e verranno poste queste scarpe sulla scalinata della cattedrale. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza a far parte di questo progetto, sostenendo e adottando una di queste scarpe per recuperare tramite la scalinata della cattedrale anche la nostra cattedrale che è una ricchezza che viene a mancare da molto tempo. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza a far parte di questo progetto, L'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la cittadinanza a far parte di questo progetto,